Albia la possibilità per i comuni in stato di dissesto e predissesto finanziario di chiedere finanziamenti per mettere a norma i canili e rifugi esistenti, nel caso non siano conformi alle normative o per costruirne di nuovi. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio scorso il decreto del Ministero dell'Interno che per tali finalità stanzia 10 milioni di euro per il BN 2021-2022. È quanto riferisce la Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Maria Lucia Lorefice, che spiega. Molti enti locali hanno manifestato la difficoltà economica nel prendersi cura dei cani randagi, un'esigenza molto avvertita anche nei comuni della provincia di Ragusa. Per tali ragioni, come ebbi modo di annunciare subito dopo l'approvazione nell'ultima legge di bilancio, abbiamo inserito questa misura grazie ad un amendamento del Movimento 5 Stelle, così da salvaguardare e proteggere gli animali abbandonati, intervenendo sul triste fenomeno del randagismo. È sicuramente un primo passo per la tutela degli animali e per la sicurezza delle città, che dovrà essere accompagnato da iniziative volte alla sensibilizzazione e all'educazione dei proprietari dei cani per una detenzione responsabile. La Presidente ricorda infine, gli enti locali interessati a ricevere i contributi dovranno far prevenire la propria candidatura utilizzando esclusivamente l'area riservata del sistema certificazioni enti locali, accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale, penalano una missione entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso. Abbiamo letto il comunicato stampa della Presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera, Onorevole Maria Lucia Lorefice.